Parma in campo domani alle ore 15 a Cervia contro la Ribelle per l'ottavo turno di Serie D Girone D. Tutte le altre partite si disputeranno però questo pomeriggio sempre alle ore 15. Ecco il quadro della giornata. Delta Rovigo-San Maurese, Forlì-Correggese, Imolese-Arzignano, Legnago-Mezzolara, Lentigione, Alto Vicentino, Ravenna, Bellaria, Romagna Centro, Clodiense, San Marino, Villa Franca, Virtus Castelfranco, Fortis Juventus. Riflettori puntati sul big match odierno tra Lentigione e Alto Vicentino, rispettivamente terza e seconda forza del campionato stando almeno alla classifica attuale. Lentigione che verrà affrontato in trasferta dal Parma domenica 25 ottobre. Il Forlì, avversario invece di domenica prossima al Tardini, riceverà oggi la Correggese. Il Parma ha già affrontato e sconfitto la Ribelle il 30 settembre nel turno preliminare di Coppa Italia. Ma quella di domani sarà una partita diversa perché i Ravennati, che al Tardini avevano schierato quasi tutte le riserve, manderanno invece in campo la formazione migliore, a cominciare da Marco Bernacci, ex centravanti di Bologna, Torino e Cesena. A Polloni dovrebbe dare spazio a Miglietta dal primo minuto a centrocampo, probabile anche l'impiego di Matteo Guazzo davanti al posto di Longobardi. L'attaccante, arrivato da Lentella, ieri a Collecchio, ha fatto sapere quanto sia voglioso di giocare e di conquistarsi un posto da titolare. Il tecnico dovrebbe dunque concedergli l'occasione per capovolgere le gerarchie nel reparto avanzato. Tra i pali si rivedrà il Letton e Zommers, mentre Ricci potrebbe scalare in difesa. Alla partita contro la ribelle sarà dedicata gran parte della puntata di Calcio e Calcio più, in programma come ogni giovedì, in diretta, domani sera alle ore 21.